Salve a tutti qui di Vus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Un fluido nero capace di uccidere un essere umano, oppure di far crescere dentro di lui un alieno parassitario. No, non mi riferisco al fluido nero di Prometheus, a cui ho dedicato un video qui sul canale, bensì all'olio nero o cancro nero della celebre serie X-Files. In questo video esamineremo proprio le caratteristiche dell'olio nero e il suo funzionamento a livello biologico. Come di consueto vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Prima di addentrarci sull'olio nero nello specifico, inquadriamo a grandi linee l'essenza di X-Files. Magari non tutti, soprattutto i più giovani, hanno avuto modo di seguirla. X-Files è una serie tv piuttosto longeva, che conta anche di due film. In generale parla delle vicende degli agenti dell'FBI, Fox Mulder e Dana Skelly. Mulder è un grande esperto di misteri, cospirazioni e fatti paranormali. Skelly, invece, è la controparte più razionale e scientifica. Ai due viene affidato il compito di indagare sugli X-Files, ossia casi misteriosi e inspiegabili. Ciò porta Mulder e Skelly a contatto con alieni, fenomeni sovrannaturali e varie cospirazioni, che coinvolgono anche elementi del governo degli Stati Uniti e non solo. In diversi episodi della serie, e anche nel film X-Files, il film, titolo italiano fantasioso, i nostri due agenti si imbattono nel misterioso e pericoloso olio nero, parte fondamentale del piano di colonizzazione aliena del nostro pianeta. Ma che cos'è esattamente questo olio nero? Si tratta di un vero e proprio virus senziente e autoreplicante, che possiede svariate capacità. In primis può assumere il controllo dell'essere umano infetto, oppure può ucciderlo, emettendo una dose letale di radiazioni. Ma la capacità più inquietante dell'olio nero è quella di far crescere, dentro il corpo umano, un alieno della razza dei grigi, alieni conquistatori e assetati di potere che intendono colonizzare il nostro pianeta. Quando si entra in contatto con l'olio nero, esso scorre sotto pelle in maniera ben visibile, risalendo poi fino agli occhi, che si velano appunto di colore nero, manifestando così i sintomi dell'infezione in corso. L'abilità di poter dar vita a nuovi alieni grigi rende l'olio nero un perfetto strumento di dominio e di conquista, visto che può potenzialmente sfruttare miliardi di persone per dare vita a una nuova genia di alieni. Il primo contatto tra un essere umano e l'olio nero avvenne durante l'era glaciale. All'incirca nel 35.000 a.C. due uomini delle caverne seguirono delle strane orme nella neve. Si trattava di impronte a tre dita, simili a quelle di un grosso rettile. Seguendo la pista, i due uomini primitivi caddero in una grotta, e qui vennero aggrediti da un grigio. I grigi sono creature bipedi e umanoidi. Posseggono una testa oblunga e due grandi occhi neri. Le loro mani, così come i piedi, posseggono solo tre dita, che terminano in altrettanti artigli affilati. Tornando ai nostri cavernicoli, uno viene ucciso dall'alieno, mentre l'altro riesce ad avere la meglio sul grigio. Tuttavia, il sangue nero di quest'ultimo infetta il primitivo, che diverrà quindi l'ospitante per un nuovo grigio. A mano a mano che l'alieno si sviluppa, il corpo dell'essere umano che lo ospita subisce vari cambiamenti. La pelle diventa sottile, fino a divenire completamente traslucida. In generale, i tessuti perdono consistenza, divenendo gelatinosi. Ciò è dovuto al fatto che l'alieno consuma i tessuti e gli organi della sua vittima, utilizzandoli per crescere. Raggiunta la maturità, il grigio fuoriesce dal corpo umano, lasciandosi dietro un cadavere prosciugato e con il torace squarciato. L'olio nero è un composto estremamente resistente al passare del tempo, come dimostra il film X-Files. Il fluido è rimasto per circa 37.000 anni nella grotta, quella degli uomini primitivi, senza perdere efficacia. Quando un ragazzino, alla fine degli anni 90, si è calato nella grotta, il fluido lo ha subito infettato. Una delle debolezze dell'olio nero è sicuramente il freddo, che induce uno stato di inattività e di ibernazione. Secondo uno dei personaggi di X-Files, alias l'uomo con le mani curate, l'olio nero giunse sulla Terra milioni di anni fa, tramite un meteorite, precedendo e di molto l'ascesa della specie umana sul pianeta. Si tratterebbe addirittura del primo essere vivente del nostro mondo. Come accennato in precedenza, l'olio nero può avere effetti diversi. Nel 1945, una squadra di aerei da caccia P-51 inseguì un oggetto volante non identificato sopra l'oceano Pacifico. L'UFO venne abbattuto e si inabissò nell'oceano. Per recuperare le preziose tecnologie, il sottomarino della marina americana Zeus Faber si recò nell'area dello schianto. L'equipaggio entrò così in contatto con l'olio nero, che prese il controllo del comandante, influenzandone la mente. Dei 144 membri dell'equipaggio, solo 7 riuscirono a salvarsi. L'olio nero, che ribadisco è senziente, può persino decidere di abbandonare un infetto di propria spontanea volontà. L'infetto perderà così ogni ricordo relativo all'olio nero e al periodo in cui il patogeno ne ha controllato la mente. Nell'anno 1996, i russi scoprirono che alcune rocce situate nell'area di Tunguska, scelta ovviamente non casuale, contenevano tracce del misterioso fluido nero. I russi soprannominarono la sostanza come cancro nero, vista la sua elevata mortalità, ed escogitarono un piano per diffonderlo negli Stati Uniti. Nel frattempo venne anche prodotto un vero e proprio vaccino, capace di rimuovere l'olio nero dal corpo di un essere umano infetto. Ciò ha salvato la vita all'agente Mulder. La storia dell'olio nero è inoltre strettamente connessa alla fazione umana nota come The Syndicate, nella versione italiana si chiama il Consorzio o anche il Sindacato. Questo gruppo include al suo interno persone influenti e di potere, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Attestandosi come un vero e proprio governo ombra, il Consorzio cela con ogni mezzo la verità circa gli alieni e sul loro piano di colonizzazione e ripopolazione del pianeta. Piano che si concretizzerà proprio per mezzo dell'olio nero. Per mantenere la segretezza sugli alieni, il Sindacato ricorre alla minaccia, alla manipolazione, alla corruzione e anche all'omicidio. Durante i primi anni della Guerra Fredda, il Consorzio scoprì che gli alieni, i primi veri abitanti del pianeta, intendevano riappropriarsi della Terra, servendosi appunto del patogero noto come olio nero o purificatore. Il Sindacato cominciò a lavorare a un vaccino contro l'olio nero, fallendo più e più volte. Solo la parte sovietica e poi russa ebbe successo, come detto poco fa. I fallimenti nella creazione di un vaccino efficace spinsero il Sindacato a un'alleanza ancora più convinta con gli alieni, offrendo aiuto e assistenza in cambio della salvezza durante la colonizzazione. In segreto però il Sindacato continuò a cercare una cura per il patogeno non terrestre, compiendo anche ricerche sulla creazione di un vero e proprio ibrido umano-alieno. Per agevolare il piano di colonizzazione aliena, il Consorzio condusse delle ricerche genetiche atte a trasformare le api in vettori per l'olio nero. Il piano era semplice, diffondere le api in tutto il mondo affinché portassero con loro il patogeno, segnando così l'inizio della colonizzazione aliena. Alla fine il piano del Consorzio venne sventato e gli stessi alieni cambiarono i propri obiettivi, passando da una vera e propria colonizzazione a un più semplice e meno impegnativo sfruttamento delle risorse naturali della Terra. E quindi che fine ha fatto l'olio nero? Probabilmente giace ancora in vari depositi sotterranei, ma con la conclusione di X-Files non vedrà mai più la luce, anche se continua a vivere all'interno di varie teorie del complotto. Del resto X-Files ha creato una mitologia estremamente affascinante, da alcuni ritenuta attendibile anche nella vita vera. Nel mio piccolo ho apprezzato molto le prime stagioni di X-Files e sono anche un grande appassionato di misteri, paranormali e simili. Ma da qui a credere che ci sia in atto una reale cospirazione aliena, beh, ce ne passa di acqua sotto i ponti. L'analisi si conclude qui. Spero che questo video sia stato interessante anche per coloro che non hanno mai approcciato X-Files. Vi segnalo che le stagioni sono presenti su Disney+. Se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente qui. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!